È tornata per il quinto anno consecutivo la giornata nazionale delle famiglie al museo, un giorno speciale in cui poter visitare i musei con tutta la famiglia. Fondazioni, gallerie e altri luoghi espositivi sono aperti dalla mattina al pomeriggio. Nelle Marche sono circa 40 musei di tutte le province che hanno aderito alla giornata, proponendo varie iniziative, visite didattiche, giochi a tema, laboratori creativi, le atture e attività pensate appositamente per i bambini. Il tema del 2017 è la cultura abbatte i muri. È tuttok.